Ciao ragazzi, bentornati da 8opone. Prima di iniziare questo video volevo farvi vedere, su richiesta anche di Corgi Gamers, fail Dane, l'intro del gioco. Perché allora, lei se l'hai presa un po' che l'ho... Oh, scusate, disturbi da... disturbi tecnici. Lei se l'hai presa perché non gliel'ho fatta vedere, comunque adesso risolvo subito e vi faccio vedere immediatamente questa... la storia del gioco. One rainy night, I wanderede into an unfamiliar quarter and realized that I was lost. Looking around in search of known landmarks, I almost stumbled upon the heavy, gloomy figure of a stranger. I apologized and tried to get around the stranger, but he suddenly punched me in the face and knocked me out. Throwing my limp body over his shoulder, the brood went into the depths of dark, abandoned alleys muttering something. I woke up in this strange place with a handache. Heavy footsteps nearby compelled me to seek a way out more quickly. Corgi, mi devi spiegare cosa ci trovi di tanto attraente in quel ragazzino. Ma va bene, adesso passiamo subito al gioco. Intanto regoliamoci il nostro volume. Ok, possiamo riandare. Eriamo arrivati al capitolo 3, continuiamolo. Embra ci sia un secondo piano. Eh, guarda, non me ne ero accorto! Allora ragazzi, bisogna stare attenti perché... Come vi ho già detto, nonostante ci sia l'icona dell'orecchio qui di fianco che mi faccia vedere... Mi faccia vedere se il mio personaggio sente qualcosa. Cioè comunque il problema è che io non sento niente, cioè... Siccome sto tizio fluttua quando passa... Di qua. Spero che sia di sopra. Adesso spero che scenda. Intanto ragazzi, per solito aumentiamo la luminosità perché... Come ogni buon gioco fatto male non si vede nulla. Adesso tu te ne vai, per favore, signor fluttuante pazzo. Niente, ma torna su! Ragazzi, ma io non posso sempre stare nascosto! Che scasso! Nascondiamoci qui allora. Eccolo che torna. Vattene! Non sono qui tranquillo. Non torna su. Mi sa che mi ha visto? No! Non mi può stop! Ragazzi, non si vede da qua. No, te prego zio, vattene! Vattene! Non sono qui! Vattene! Ma perché sali? Io devo salire! Ragazzi, ma guarda se io non riuscirò ad andarmene da qua perché sto scemo continua a passare di qua. No! Non è giusto! Ma dai ragazzi, ma io come faccio a salire là sopra se quel... Se quello continua a stare lì! Come si fa? Ma dai! Ragazzi, veramente... Sto gioco... Allora, io ho capito che devo andare da quella parte. Ok, ci sono andato. Ma non ho capito... Dio ragazzi, quanto... Quanto è fatto male, veramente. Non ci si capisce... Nulla. Giante. Se manca di ci fosse anche qualcosa per far rumore. Quello continua a salire. Salire e salire. Non è che avrò ascoltato qualcosa qui? No, questo è il libro per la storia. Ma poi, una cosa che non mi spiego. Se lui sta là... E io ancora non l'ho sbloccata questa porta. Come cacchio c'è passato? Questa? Posso prenderla? No, qua serve la mano. Buono che se n'è nato! Oh, finalmente ragazzi, forse possiamo salire. Oh, bravo. Tu restatene lì. Non fare caso a me. L'ho fatto veramente bene. Ho fatto benissimo. Presto, nascondiamoci. Sta salì? Corriamo. Che bordello. Mamma mia, raga, che colpo! Ancora è libero qua. Nascondiamoci. Potessi vedere dov'è? Ragazzi, ce la dobbiamo rischiare. Tanto se sta qui useremo la bambola. Ci servono degli oggetti. Scriviamo di qua. Ciao, topi, sono un top anche io. Com'è stato? Prendilo? Ragazzi, mamma mia, non sapete che ansia mette sto gioco. Oh, 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 questo mi serve. Ragazzi, mi sono incastrato dentro un gabinetto, non ci credo. Non essere qui. Dove devo andare? Di sotto. Sperando di non incontrare il pazzo furioso. Sei qui? Oh, non fa scherzi. No, non è qui. Ora andiamo. Ragazzi, mi sa che mi ha visto? Non lo so. Io mi nascondo. Via, 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 via. Via, 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 via. Eh, che te pare sto faccia di... No, you can't stop me. Scappiamo. Lo scemo è arrivato. Dove si va? Via, via, via. Scappiamo sotto il letto. Non ci avrai. Non sono. Non sono qui. Non sono qui. La smetti di fluttuare che poi non ti sento. Ecco, ragazzi, lui fluttua. Per questo non lo sento. Ragazzi, dovresti andare da... Dal logopetista, da qualcuno. Perché veramente cammini malissimo. Cioè, lo sai che fa male camminare in questa maniera? Vediamoci la porta. Non corriamo rischi. Di qua cosa c'è? Dove devo andare? Ah, c'era qualcosa qui dentro. C'è tutto sto casino per prendermi cosa. Aspetta, fa vedere. Oh, mi sa che abbiamo trovato un altro simbolo, ragazzi. Dai, allora andiamo subito a posizionarlo. Sperando di non incrociarlo. Dai, ragazzi, posizioniamo il simbolo. Non sei qua, vero? No, non è qui. No, mi ha visto! Manza, all'ultimo secondo, ragazzi. All'ultimo secondo. Presto, corriamocene via. Corriamocene via che questo scemo ci ha visto. Mamma mia, ragazzi. Che spavento. Ma raga, ma io non lo sento, però. Secondo voi ci sta? Ce la rischiamo? Non è giusto, però. Io non lo sento. Portiamoci le spalle. Eccolo, sta là, infatti. L'abbiamo posizionato. Ah, ti ho fregato! Ti ho fregato! Capitolo 4. Dai, ragazzi, ci siamo quasi. Piru, piru! Piru, piru! Via! Via! Dove si va? Dove si va da quella parte? Non mi avrai? Non mi avrai? Non mi avrai? Non mi avrai? Tanto sei stupido! Non mi avrai? Non mi avrai? Sì, ma pure tu corri, zio! Corri! Non mi avrai? Non mi avrai mai? Non mi avrai mai? Non mi avrai mai? Non mi avrai mai? Mamma mia, regà. È lì che bisogna andare. Ma spero di aver azzeccato. Io intanto mi nascondo. Speriamo che passi il pericolo. Corgi, veramente, grazie per avermi suggerito questo gioco. Cioè... Non sono qui! Non sono qui, bello! Tranquillo! Io non sono qui! Non fare caso a me! Sono solo un topone! Ti prego, dimmi che quella non è la stanza dove devo andare perché lui c'è andato... Porco! You can't stop me! Ecco, bravo, vattene, gira i tacchi. Ma niente! Lo becco sempre qui, basta! Via, 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 via! Aiuto! Corri! Ah! Do-do' sta? Do' sta lo scemo? Dice che devo andare di qua. Ah! Te ne vuoi, Anna! Fatti i cavoli tuoi! Hop! Non stare attento, Razier, che sto perdendo gli oggetti per spaventarlo. Ne ho soltanto cinque. No, vabbè, regà, sono morto, sono morto. No, l'ho abbassato, l'ho abbassato! Presto scappiamo! Mazza, regà, come l'ho abbassato! No, regà, ve la sono... Eh, fattene una ragione, io me ne devo andare. Chiuditi, chiuditi dentro. Nasconditi. Ah, apri pure le porte, eh. No! Ho premuto il tasto sbagliato! No! Mannaggia! Dai, su, ragazzi, ce la dobbiamo fare. Dove devo andare? Di là. Ok. E allora andiamo! Oh, ho sentito le porte aprirsi. No! Via! Via! Aiuto! Lo piegherai, lo piegherai, lo piegherai! Sono solo il topore, ti prego, mi do. Mi può vedere da qui? Proviamo a raggirarlo. Mi perdi di vista, zio? Spaventiamolo! Via! Eppure ci sto riuscendo! Corri, corri come il vento, corri! Corri! Nasconditi, nasconditi! Cosa c'è qua? La lanterna, ottimo! Madonna, ragazzi, c'è un casino di mosche qui. Ma a cosa mi serve la lanterna? Di qua? Oh! Zio! Non so voi, ma io me la svigno, raga. È troppo scuro. Ah, ho la lanterna, devo andarci. Un martello, posso usare io per spaccargli la testa? Qua serve un codice. Quindi perché non posso andare qua senza lanterna? Beh, a questo punto dimmi dove andare. Il pazzo furioso è qui? Indica di qua. Un secchio. Cosa mi serve il secchio? Un secchio. C'è qualcosa qui nel bagno. Ok, ora? No, dall'altra parte. Sperando di non trovarlo, possiamo toglierci la lanterna adesso? Non essere qui, ti prego. No, non è qui. Ragazzi, io non lo sento, non so dove sia il puzzone. Non so dove sia il cretino. No, non devo andare sopra, vero? E lui dov'è? Commettiamo che lui è di sopra? No, non è qui. Ciao Toponi! Come stai Toponi? No, non è qua. Atto, guarda, una chiave. Ora dove devo andare. Di là. Non essere qui, te prego. Attenzione, indica questa zona. No! Mazza come ti ho raggirato, però, eh. No, ragazzi, ho bloccato. O devo aspettare che scenda qui sotto. O forse no? Aspettate. Sì, infatti! Proprio come pensavo. Che succede? Devo risalire. Eh, il problema è che lo scemo sta qui. Si era fermato sulle scale. No, mo' se ne sarà andato, spero. Ragazzi, ho finito le bambole, non posso più spaventarlo. Ma come ci serve un codice? Quanti codici ci servono? Eh, è sbloccato. C'è il segno, c'è il segno! Prendiamolo allora, prendiamolo! Ottimo. Ci ha beccato! Scappiamo! No, qui no, non si può! È chiuso! Mannaggia, regà! Dove stai? Dove stai? Non puoi arrivare qui? Ragazzi, si è bloccato. Oh, come non detto! Dai, vieni che ti aspetto, vieni. Facciamoci un giretto. Facciamoci il giro, facciamoci il giro. Fantastico! Via! Scappiamo! Dai su, ragazzi, che forse possiamo sconfiggerlo. Che succede? Ho provato Dalla trappola E prendere l'ultima chiave. La lampada è fuori Di gas. È meglio Il giro. È meglio... Per favore, ma... Oh, no! Ci ha bloccato! Che devo fare adesso? È bloccato. No, ragazzi, sono stato bloccato! Mi ha braccato! Oh, no! No! Oh, mio Dio, ragazzi, allora, io ci ho provato, è stato veramente difficile. Che succede? Ragazzi, allora, direi, per questo episodio possiamo smettere qui. Noi ci vediamo al prossimo video in cui cercheremo di sconfiggere questo infame. Alla prossima! Alla prossima!